Buongiorno, di dove sei? Sono italiana. Quando sei venuto in Romania? Devo dire prima la visita. Prima la visita quando hai fatto? Allora la prima visita l'abbiamo fatta io e mio marito il 13 marzo e siamo andati via il 16. Dopodiché abbiamo parlato con i dottori di Dental West e abbiamo deciso di fare un lavoro perché io avevo una brutta infezione e quindi abbiamo dei circo, sono molto contenta, i dottori sono molto bravi, sono molto premurosi nella disinfettazione, pulizia e qui a livello umano ci fanno sentire bene. Come si fa il servizio dei ciasc, come si fa l'idea proprio lungo trattamento, quante scise o visite? Che pensi da questo tipo di turismo, trattamenti stomatologici e poi visitare stazioni e fare un po' di turismo? Certo, certo che si può fare anche turismo che approfitta per fare dei lavori in bocca comunque e poi andare in giro per Brasciop che secondo me è una bellissima cittadina, dai vari castelli, la montagna, la piazzetta. Poi sono, devo dire, persone molto, molto cordiali. Ok, grazie, grazie. Buongiorno, perché sei venuto in Romania? Per fare degli interventi di stomatologia perché qui il trattamento è buono, si può fare, si sta bene con i dottori, è molto buono. Che pensi dal prezzo che noi laviamo? I prezzi sono buoni, la dottoressa è molto buona, tutto lavoro buono e pure il prezzo è ottimo, rispetto all'Italia è buono. Che pensi da questa combinazione di turismo e trattamenti medicali? Il trattamento sia per venire qua a fare è buono perché si può fare visitare tanti paesi, Brasciop, Bucarest, castelli, di tutto. E poi ci sono le persone qua che sono molto brave. Grazie. 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 Grazie.